Finalmente abbiamo un Ministro della Salute sensibile che si è occupato di questo problema. Diciamo che le nascite sono zero in Italia, per questo è uno dei paesi al mondo con più bassa natalità. È uno dei paesi dove si contrae, ci si avvicina alla prima gravidanza in unità più tardiva. Questo il Ministro lo ha constatato e ha deciso che anche per un discorso di welfare l'Italia deve occuparsi di questo problema sociale. Facendo ciò ha indetto un cosiddetto Fertility Day e ha emanato delle linee guida che sono atte a sensibilizzare la popolazione sulla preservazione e la conservazione della fertilità. Circa il 30% delle coppie si rivolge a un centro di procreazione medicalmente assistita perché hanno un problema singolo o di coppia per quanto riguarda la fertilità. L'orologio biologico dell'ovaio è inesorabile, l'ovaio nel momento in cui non funziona più non funziona. Nell'uomo il discorso è un po' diverso, può essere migliorato, nella donna purtroppo no. Ci viene incontro a ciò però la fecondazione eterologa. Oggi l'Italia è al passo con gli altri paesi maggiormente sviluppati, si è dotato di una legge, la legge 40, che prevede anche l'utilizzo in Italia della procreazione medicalmente assistita con donatore, sia per quanto riguarda la donna che per quanto riguarda l'uomo. Grazie.